Siamo in partenza per un nuovo viaggio, una nuova avventura, questa volta la nostra destinazione del Madagascar, andremo a fotografare prevalentemente animali, il nostro viaggio si concentrerà sulla costa orientale del Madagascar dove c'è la maggiore densità di lemuri, una varietà incredibile di foresta, c'è la foresta primaria, c'è la foresta in cui vive l'Indri che è il più grande dei lemuri del Madagascar, ci sono tanti tanti animali interessanti, diurni e animali notturni, fotograferemo di notte i camaleonti, cercheremo le rane, i serpenti, insomma è un'immersione di due settimane nella meravigliosa fauna del Madagascar, cercheremo naturalmente di raccontarvi questo viaggio, i problemi che incontreremo ed anche poi tornati la post produzione delle immagini. In questo momento stiamo preparando l'attrezzatura, allora che attrezzatura preparare per un viaggio di questo tipo? Intanto quali sono le caratteristiche del viaggio? Fotograferemo prevalentemente nella giungla, fotograferemo in condizioni relativamente difficili, dovremo muoverci, dovremo essere veloci per poter seguire rapidamente gli animali, è abbastanza improbabile che riusciremo a utilizzare il treppiedi, 90% dei casi dovremo fotografare a mano libera. Abbiamo bisogno quindi di un'attrezzatura il più possibile agile, diciamo così, e versatile. Che tipo di obiettivi ipotizziamo di utilizzare? Focali medio-lunghe per ritratti stretti dei lemori, degli animali, panning e movimento, un obiettivo grandangolare non solo per le situazioni di paesaggio che occasionalmente capiteranno, ma anche perché speriamo di riuscire ad arrivare così vicino dagli animali da poter dare una prospettiva tridimensionale e immersiva, diciamo. E poi naturalmente un obiettivo macro, perché avremo camaleonti, ramne, avremo molti molti spunti macro di giorno e di notte. La caratteristica dell'attrezzatura però sostanzialmente è la leggerezza e la rapidità di utilizzo, quindi è un tipo di fotografia molto veloce, molto dinamica, in cui la scommessa è essere rapidi e riuscire a posizionarsi nella posizione, nel modo migliore per fotografare gli animali prima che questi si spostano. Cominciamo dal principio, dalle macchine fotografiche. In una situazione di questo tipo io utilizzo le fotocamere della serie X della Fujifilm, in particolare la macchina scelta è la X-T3. Quindi la X-T3 è la top of the line della serie X della Fuji, è una macchina che ha, oltre a una grande qualità da un punto di vista di immagine, di sensore, un autofocus estremamente performante, quindi l'autofocus che consentirà di seguire agevolmente i salti e gli spostamenti dei lemori nella giungla, anche in condizioni di scarsa luminosità. Alla X-T3 ho abbinato il suo power grip che non soltanto mi dà la possibilità di utilizzare due batterie aggiuntive, ma aumenta le prestazioni da un punto di vista della raffica e da un punto di vista dell'autofocus. Lavorerò contrariamente a quanto faccio normalmente quando fotografo paesaggi, quando fotografo paesaggi normalmente utilizzo almeno due macchine fotografiche, in qualche caso tre, quando invece fotografo animali e quindi devo muovermi rapidamente utilizzo prevalentemente una macchina fotografica. Quindi prevedo che per tutto il viaggio utilizzerò esclusivamente la X-T3. Come backup però porto anche una X-T2, anche lei con il suo power grip. La X-T2 è una macchina ugualmente molto performante, leggermente meno performante della X-T3 dal punto di vista dell'autofocus e della raffica, ma è una macchina che come backup in questa situazione andrebbe benissimo. Quindi due fotocamere del formato APS-C, una X-T3 e una X-T2. Obiettivi? Allora, gli animali non saranno lontanissimi, ma occasionalmente, soprattutto quando ci troveremo nella foresta primaria, che prevede alberi molto molto alti e quindi le emuri che possono trovarsi anche a 20-30 metri di distanza, nella maggior parte dei casi però avremo animali a 10 metri, 5 metri, 7 metri, quindi non sarebbero necessarie focali lunghissime. Tant'è che ero molto tentato di scegliere il 50-140 della Fuji per questo viaggio. Tuttavia, alla fine, ho deciso che il 100-400 mi dà un po' più di flessibilità, a scapito di un po' di peso in più. Dal punto di vista della qualità ottica, il 100-400 è un obiettivo estremamente nitido al pari del 50-140. È un pochino più grande, un po' più pesante, un po' più impegnativo, ma tutto sommato per le situazioni in cui gli animali saranno un po' più lontani, quei centimetri extra fino a 400 mm aiuteranno. Considerate naturalmente che questi 400 mm sono equivalenti a 600 mm sull'APS-C. Qualora questo non dovesse bastare, io porto sempre anche due moltiplicatori. Moltiplicatore 1,4, moltiplicatore 2x. Il 2x lo utilizzo raramente. Lo utilizzo in alcune situazioni con i felini, in cui davvero gli animali sono molto molto lontani. Non prevedo assolutamente di utilizzarlo in questo viaggio. Francamente non prevedo neanche un grande utilizzo per l'1,4, ma sono piccoli, sono leggeri. Li porto dietro. Tra l'altro il 100-400 con la X-T3 mantiene l'autofocus, mantiene tutti gli automatismi, mantiene la performance dell'autofocus anche utilizzando i moltiplicatori. Per il resto soltanto due altri obiettivi. Inutile caricarsi troppo perché saremo nella giungla tutto il giorno con lo zaino sulle spalle. Un grandangolare. Ho scelto il più leggero, il più piccolo, il più portatile, il 10-24. Anche qui ero indeciso con l'8-16. L'8-16 è un obiettivo altamente performante quanto il 10-24 o addirittura di più. È un pochino più luminoso perché ha una massima apertura di 2,8 mentre il 10-24 ha una apertura massima di 4 e ha anche quei 2 mm in meno da 8 a 10 mm che potrebbero essere utili. Ma è abbastanza più grande e abbastanza più pesante. Siccome sto cercando di limitare il peso al massimo, lo lascio a casa, porto il 10-24 e un obiettivo macro che non può che essere l'80 mm. L'80 mm è un macro che ti dà una buona distanza di lavoro, quindi riuscirò a fotografare anche serpenti, qualora, come spero, riusciremo a trovarli, camaleonti, irane, senza arrivare vicinissimo al soggetto e quindi senza disturbarlo. Veniamo poi alla parte più importante, diciamo subito dopo la macchina, subito dopo gli obiettivi, la sezione più importante è la sezione luci. Lavoreremo con condizioni di luce molto difficili, problematiche. Nella giungla la luce è poca, scarsa, la luce filtra, quindi crea un contrasto elevato. Utilizzeremo il flash nel 99,9% delle nostre immagini. Quindi è assolutamente indispensabile avere un flash affidabile che non surriscaldi, che non ci molli sul campo. Per questo viaggio sperimenterò un'attrezzatura nuova, un flash nuovo. Questo è il flash A1X della Profoto. Profoto è famosa in tutto il mondo per le luci da studio di altissima qualità. Quindi flash e luce continua da studio molto molto versatile, qualità molto molto elevata. Recentemente però hanno prodotto anche un flash da slitta. La A1 poi seguito da questo, che è il modello successivo, che è la A1X, che ha una performance ancora un po' superiore in termini di robustezza e di durata della batteria. È un flash che ha, l'ho provato in questi giorni in studio, ma non ho ancora avuto modo di provarlo sul campo. Questa sarà la prima esperienza. Ha la straordinaria caratteristica di essere incredibilmente affidabile, di avere una raffica velocissima, riuscire a seguire addirittura i 12-14 fotogrammi al secondo della X-T3. Quindi davvero una performance incredibile, non surriscalda mai ed è estremamente affidabile. Quindi conto di utilizzare questo flash per praticamente tutto il viaggio, anche se come backup porterò anche l'X500 della Fuji, che mi ha accompagnato in tanti viaggi. È un flash altamente performante, forse non tanto quanto il Profoto, ma diciamo sicuramente non lo lascio a casa perché potrebbe tornarmi utile. Il Profoto ha un'unica piccola complicazione rispetto all'X500 e vale a dire che mentre l'X500 si può montare direttamente sulla fotocamera, il Profoto ha necessità di un trigger per lavorare in TTL, questo per via di alcune limitazioni nella comunicazione tra la fotocamera e il flash. Quindi in poche parole io non potrò montare questo flash direttamente sulla slitta in questo modo. Peraltro è una situazione che viste le dimensioni del flash comunque maggiori rispetto ad altri flash come l'X500, creerebbe un insieme non molto stabile. Quindi conto di assemblare il tutto utilizzando una staffa. Allora questa è una staffa della Kirk che mi dà la possibilità di montare la fotocamera e poi di montare anche due accessori al lato. Quindi conto di organizzare il tutto in questa maniera. la X-T3 sulla staffa, la staffa è di tipo Arca Swiss, naturalmente qui ci andrà l'obiettivo, ora per semplicità metto l'80 mm macro ma naturalmente ha lo stesso identico modo il 100-400 e a questo punto potrò montare il Profoto a 1X sulla staffa in questa maniera qua. Ecco, a questo punto vedete che ho un insieme che è molto compatto, non è neanche troppo pesante, è molto agile, posso scattare semplicemente in questo modo con il flash da questa parte oppure qualora dovessi avere bisogno di una luce diversa come nella macro è molto veloce staccare il flash e posizionarlo come vogliamo. Per attivarlo abbiamo però necessità di un trigger a questo punto. Allora, i trigger disponibili sono due. C'è il trigger classico della Profoto che è quello più completo in qualche maniera che consente di gestire più canali più flash diversi con diversi livelli di esposizione e c'è anche un pro un altro trigger più piccolo più compatto che loro chiamano il connect che è questo qui piccolino piccolissimo si ricarica con un usb e semplicemente si monta sulla slitta del flash della macchina fotogramera si accende e controlla il flash in TTL anche in manuale naturalmente ma anche in TTL supporta la sincronizzazione a alta velocità e quindi in qualche modo tutte le caratteristiche del flash. Quindi ecco vede che è un insieme molto agile molto compatto l'altro accessorio l'altra staffa la utilizzerò per montare una GoPro e questo mi aiuterà per le riprese in soggettiva diciamo per cercare di descrivere anche quello che vedo e di far vedere gli animali così come li vedo dalla dalla mia macchina fotografica se vogliamo. Altre cose importanti beh il Profoto ha una sua batteria dedicata una batteria non so ancora esattamente quanto duri anche se dai test in studio sembra che abbia una durata abbastanza buona ma ho anche due batterie di riserva ci sono i modificatori della luce, diffusori, adattatori, grandangolari. Porterò un piccolo set di filtri, non porto in questa situazione i filtri nisi che sono quelli a lastra più impegnativi che utilizzo per la fotografia di paesaggio perché non sono adatti a un tipo di fotografia così itinerante se vogliamo, porto però dei semplicissimi filtri a vite, in particolare un ND8, un ND1000 e un polarizzatore. Di tutti questi molto probabilmente utilizzerò soltanto l'ND8 e il motivo per cui prevedo di poterlo utilizzare è per diminuire la quantità di luce quel tanto che basta per riuscire a effettuare un panning magari con dei tempi di scatto un pochino più lunghi nella giungla, nella vegetazione. L'ND1000 è un filtro dedicato alla fotografia di paesaggio quindi è molto improbabile che mi serva in questo viaggio il polarizzatore ha anche un filtro che si usa prevalentemente nella fotografia di paesaggio è molto difficile utilizzarlo con gli animali perché normalmente non si vogliono togliere non si vogliono perdere quei due o tre stop di luce che l'utilizzo del polarizzatore implica. Li porterò comunque per sicurezza. Tutto il resto dello zaino è sostanzialmente dedicato ad accessori per la ricarica quindi andiamo da power bank che possono sempre servire sul campo per ricaricare il trigger per ricaricare qualunque cosa a una quantità notevole di batterie. Queste sono le batterie della T3 o della T2 hanno esattamente la stessa identica batteria dovendo fotografare tutto il giorno dall'alba al tramonto fino alla notte è indispensabile avere abbondanza di batterie di ricambio. Il resto è sostanzialmente per riprendere quello che farò, quello che faremo e cercare di raccontarvi il viaggio. Quindi utilizzeremo una GoPro, anzi due, una montata su di me, una per le riprese che riprenderanno me che fotografano. Non mancano le batterie della GoPro, come vedete, stabilizzatore, gimbal per stabilizzare la GoPro, microfono. Utilizzo uno zoom f1 per registrare l'audio. Un microfono molto compatto, poi successivamente si sincronizza l'audio in fase di montaggio. E faretti che servono per illuminare la scena quando si effettuano delle riprese con la GoPro. Questo è più o meno tutto, è un'attrezzatura tutto sommato abbastanza leggera. Quando avremo in mano la macchina con l'obiettivo con il flash, tutto sommato nello zaino rimarranno due obiettivi. Un 10-24 e un 100-400 oppure il macro e un po' di batterie. Quindi non è un'attrezzatura molto impegnativa. Il treppiedi lo porterò in questo viaggio perché non lo lascio mai a casa. Prevedo che rimarrà nella stanza d'albergo il 90% del tempo. Nella foresta del Madagascar, per la mia esperienza dei miei viaggi precedenti, è quasi impossibile muoversi velocemente come il treppiedi. La vegetazione è molto fitta, non c'è il tempo di spostarsi rapidamente e di piazzare il treppiedi. Quindi dovremo cercare di lavorare a mano libera e lavorare nella maniera migliore possibile per muoverci rapidamente e garantire allo stesso tempo delle foto nitide e una buona gestione della luce. In questo viaggio non sarò solo, questo è un workshop fotografico, quindi viaggerò con altre 6 o 7 persone. Oltre a fotografare io, quindi cercherò di aiutare loro a ottenere le migliori immagini possibili. Ci vediamo in viaggio!